Grazie a chi ha promosso l'incontro e grazie di cuore al professore Saccarlotti che non so dove sia ma che mi ha affascinato. Io cerco, Gian Giacomo, tu mi chiudi a cinque minuti. Quando a un certo punto diabolicamente mi hanno chiesto dacci delle keywords per la tua cosa, io avevo scritto equità in città, società e mondi a crescenti e vertiginose ineguaglianze. Avevo scritto rispetto, che è una parola che mi sembra Farinetti abbia. Avevo scritto rispetto che vuol dire uguale rispetto per chiunque, per chiunque dovremmo dire ovunque pensando al pianeta, ma per chiunque limitandoci pensando a quella cerchia condivisa di cittadinanza che Farinetti di nuovo ha sottolineato. Io avevo infine indicato come capitale sociale, e qui rispondo alla domanda diligentemente, il capitale della fiducia. All'assessore piace la filosofia anglosassona, anglofona, è l'idea del trust, che è molto legata all'idea del bene comune, su cui vorrei spendere una brevissima parola, tanto a cinque minuti sono bloccato. La nozione di bene comune è una nozione che ha alcune interpretazioni canoniche. Il bonum comune, quelle cose lì che abbiamo visto affascinanti, il bene comune presuppone una visione, si dice in filosofia monistica, cioè una visione condivisa di che cosa sia bene per chiunque, che è indipendente da ciò che ciascuno può legittimamente ritenere bene per sé. Quindi è molto difficile maneggiarla, Gerardo, sullo sfondo dell'ABC costituzionale, di democrazia costituzionale più o meno decenti, è molto difficile. Perché in realtà quello che tu puoi pensare è un'altra cosa, e qui come Gian Giacomo richiamava Bonvesin, non per fare il palio delle contrade senesi, diciamo, ma vorrei richiamare il fatto che sono 250 anni che è uscito un capolavoro mondiale a proposito della visione del diritto e della utilità sociale e del patto di cittadinanza, che è dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, 250 anni. E Beccaria comincia esattamente con due idee chiave che hanno a che vedere con quello che possiamo dire tra virgolette bene comune per andarvelo oggi. Cioè l'idea che noi dobbiamo poter valutare le istituzioni, le pratiche sociali, i modi in cui vive la gente, la qualità di vita delle persone, non usando il PIL, sul PIL peraltro adesso ci mettiamo prostituzione e traffico illegale, usando magari il BES, usando indicatori multipli dello star bene o star male delle persone e dobbiamo farlo alla luce della massima, della maggiore utilità per il maggior numero, che è la grande visione, diciamo, standard dell'utilità. E dall'altra parte dice l'unica ragione per cui noi possiamo pensare che qualcuno faccia come quella giustizia che lì viene chiamata distributiva in realtà è retributiva, perché lì erano tre, era la retributiva allocativa e distributiva e la distributiva è retributiva invece, è la giustizia correttiva. Per poter pensare una società decente, una società giusta, noi dobbiamo pensare all'idea che le persone pagano in termini di diritti dandole più o meno a un deposito comune amministrato dal comune per ritornare a Siena. Ora questa idea però presuppone una faccenda e chiudo. Perché si pensi e si pratichi in termini di equità sociale? Perché si pensi e si pratichi l'esigente idea di rispetto per le persone e di uguale rispetto per le persone perché si faccia crescere il capitale della reciproca fiducia fra le persone bisogna che le persone si riconoscano come persone che fanno parte di un qualche noi dai confini variabili ma la coscienza civica presuppone che ci sia una civitas di cui tu non sei componente ma sei componente e assumi di essere componente e senti di essere componente. Cioè non è soltanto un problema di testa, è anche un problema di emozioni. Allora quello che secondo me dobbiamo ricostituire che ha una grande importanza anche perché non si generano soltanto meccanismi perversi del tipo dello 0-0 a gol fatto, quello dobbiamo cercare di costruire ciascuno facendo il suo mestiere, ciascuno con la sua responsabilità. Alla grande, terra a terra, nei vari contesti, è la ricucitura del legame tra di noi, del legame sociale. Perché la Siena che vedevamo là è un repertorio di possibilità alle nostre spalle che ci dice tante cose, ma la città multicolore, la città pluralistica, la città differenziata, la città ha forti tassi di individualizzazione, la città ha enormi tassi di ingiustizie spaziali. Ho detto bellissimo il libro di Bernardo Secchi sulla città dei ricchi e la città dei poveri. Festeggiamo i suoi 80 anni, la triennale lunedì. Allora per poter far questo dobbiamo secondo me metterci lì col nostro filo e tessere di nuovo e ritessere ciò che ci accomuna, che non è una concezione del bene. È l'idea che siamo sulla stessa barca. È questa idea che siamo sulla stessa barca che a mio avviso è collassata anche sotto il peso enorme di una crisi persistente strutturale in cui siamo in realtà inchiodati. Per questo, questa idea di ricucire, di ritessere e di consentire una rete di mutui riconoscimenti di capitale sociale per cui siamo sulla stessa barca. Uno starà al timone, quell'altro starà nella cabina delle diavolerie elettroniche di ultima generazione, ma siamo sulla stessa barca. Questo ci è comune. Per il resto viva le differenze, viva la varietà, viva la libertà delle persone, ma questo è quello che ci lega, come quei senesi, faccio omaggio alla collega di straordinaria eloquenza e passione, come quei cittadini senesi che prendono la corda e non sono legati ma si legano. E questo è il legarsi. Devo dire che questa è l'idea della religio, è l'idea del religere, cioè l'idea di ciò che fa comunità preservando la uguale dignità attraverso il rispetto e l'equità per ciascuno di noi. Grazie. Grazie.